Era stato scarcerato lunedì e nella notte fra venerdì e sabato è subito tornato a darsi l'affare, a fare l'unica cosa evidentemente sa fare, rubare. Non ha atteso nemmeno una settimana, dopo soli sei giorni dal colpo alla tabaccheria lo stesso ladro è infatti entrato in azione nello stesso centro commerciale. In questo caso nelle mire del bandito è finito il pub alle mie spalle. Il ladro, un 39enne magrebino con un lungo curriculum criminale alle spalle, la scorsa settimana aveva infatti sfondato la parete di una tabaccheria di via Giovanni Acuto nel quartiere di Pescaiola. Ad incastrarlo era stato il sistema d'allarme collegato al cellulare del titolare che aveva immediatamente chiamato la polizia e per il ladro erano scattate le manette in flagranza di reato. Poi il processo per direttissima se l'era cavata con una condanna soft, soli due mesi con l'obbligo di firma, misura che di fatto lo aveva messo nelle condizioni di tornare a colpire. A mezzanotte c'ha l'obbligo di firma, dopodiché è libero di fare quel che vuole e quindi in questo modo continua ad essere una mina vagante. Lo scorso venerdì così un nuovo ride, il bandito era stato infatti sorpreso a razziare il pub, attualmente chiuso come impone l'ultimo DPCM che si trova a pochi metri dal tabacchi. Qui dopo essere entrato dal retro era riuscito a portare via un hard disk e i soldi contenuti all'interno dei cassetti di alcune slot, sradicate con dei coltelli presi nel pub. Il malvivente stava anche portando via un televisore divelto dal muro. Ad allertare le forze dell'ordine era stato il titolare della vicina pasticceria, insospettito da alcuni rumori sospetti attorno alle tre di notte. Sentendo questi rumori sono intervenuti in tempo, visto le cose che erano successe, hanno drizzato le antenne e hanno capito che potrebbe esserci l'ennesimo tentativo di effrazione. Hanno visto che c'era e l'hanno bloccato fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Per il 39enne è così scattato nuovamente l'arresto in flagranza per tentato furto aggravato. Il giudice ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere in attesa del processo che sarà celebrato nei prossimi giorni. Vogliamo sperare che stavolta ce lo tengono, lo mettano dentro, buttano la chiave perché uno così, dopo tantissimi precedenti, di nuovo in libertà provvisoria così come era, va a colpire di nuovo. Evidentemente è uno non affidabile a tenere al giro. Un pericolo per la società che va messo in sicurezza per noi cittadini, per noi lavoratori e per tutti. Grazie. Grazie.